Film di spessore giustamente celebrati. Nell'ambito della manifestazione L'Isola del Cinema, Gruppa Massi Curazioni organizza nuovamente il concorso Opera I e II. Come da prassi vengono accesi i riflettori sulle pellicole d'esordio capaci di distinguersi nel corso dell'ultima stagione cinematografica. Se il premio della giuria viene assegnato a euforia di Valerio Piegolino ride di Valerio Mastandrea ottiene invece quello del pubblico a consegnare i riconoscimenti all'inizio della cerimonia condotta da Carolina Rei, l'amministratore delegato di Gruppa Massi Curazioni, Pierre Cordier. Innanzitutto il cinema è un vettore di comunicazione, di condivisione, connette i cervelli o un'immaginazione privata. Anche lei tramite il cinema, tramite gli arti dell'immagine, creiamo collegamenti, condividiamo delle cose, facciamo società e diciamo la nostra concezione dell'assicurazione appoggiata su una cultura di origine mutua ci spinge ad alimentare il legame sociale e a arricchire tutto ciò che ci permette di fare società insieme. Tra i personaggi più attesi della serata Marco Giallini, a lui il premio miglior interpretazione maschile per Domani è un altro giorno diretto da Simone Spada, il regista, autore anche di Hotel Gagarin, si porta a casa il premio miglior film sull'amicizia grazie allo stesso lungometraggio. È un po' come erano, non ci piace troppo dire le commedie italiane di una volta, però si può dire che erano malinconiche e ironiche insieme. Sarebbe bello poter fare ancora film così, insomma, poterne vedere di più, anche non solo miei, ma di tutti. Domani è un altro giorno che credo sia uno dei più bei film che io ho fatto, infatti insomma qualcuno, la sessantina, c'è gente che la metà smette. Ehm, insomma, credo sia uno dei, poi insomma è un film particolare come qualcuno di voi l'avrà visto, tratta un tema insomma che è molto molto, non molto insomma bello, non è proprio da ridere il film, anche se Mastandrea è riuscito a far ridere, vabbè, è il talento. Prima della proiezione di Euforia, capace di convincere una giuria di esperti composta da Laura Delicolli, Federico Pontigia ed Elisabeth Mislend, presso l'arena Gruppama vengono consegnate altre targhe, Chiara Martegiani trionfa nella categoria attrice rivelazione per ride, Filippo Scicchitano ottiene lo stesso riconoscimento per quanto riguarda ovviamente gli uomini, grazie a Croce Delizia che permette di vincere pure ad Alessandro Gasman e a Simone Godano, ad Anna Fersetti, il premio migliore interpretazione femminile per domani è un altro giorno.